Non è possibile, basta cambiare strada una volta e ti ritrovi bloccato nel traffico, così farò tardi al lavoro. Ehi, guarda, ma quella non è Claudia. Ciao Claudia. Ciao Giulia. Ma come mai al lavoro in bici oggi? Ti tieni in forma? No, mi tengo informata. Ieri sera mi è arrivato un messaggio del comune che diceva che oggi via Marconi era chiusa per lavori. Così ho lasciato la macchina a casa. Se solo l'avessi saputo prima anch'io. Vai sul sito del comune www.comune.casalettio.bo.it e scriviti al servizio sms. È gratuito e ti permette di rimanere sempre informato sulla tua città. Ci vediamo!